Elisabetta Canalis, ex velina sarda, è protagonista della copertina di Grazia, apparendo bella e sensuale in un abito da sera rosa. Nell'intervista, parla apertamente della sua separazione dal marito Brian Perry e rivela di avere un nuovo compagno, il campione mondiale di kickboxing Georgian Cimpianu, di 30 anni. Nonostante la fine del matrimonio, Elisabetta e Brian mantengono un buon rapporto per il bene della loro figlia Skyler Eva, di 8 anni, che rimane la loro priorità. La Canalis affronta la separazione con serenità, sottolineando che la trasformazione è parte della vita e che lei e Brian hanno scelto di affrontare la situazione con comprensione reciproca. Nonostante il divorzio non sia ancora avvenuto legalmente, entrambi si impegnano a mantenere la costanza nella vita di Skyler. Elisabetta, a 45 anni, si concede un nuovo inizio e si trasferisce a 10 minuti di auto dalla casa in cui vivevano insieme. Rispetto alla sua vita privata, preferisce mantenere discrezione, ma ammette di stare bene con il nuovo compagno. La Canalis sottolinea che essere genitori è una grande responsabilità, anche in caso di genitorialità singola, e respinge l'idea che alle donne venga addossata la colpa dei fallimenti matrimoniali. Riflettendo sulle sfide affrontate, Elisabetta afferma di aver imparato che la vita può presentare eventi che richiedono crescita e cambiamento. Non vede il cambiamento come un segno di incertezza, ma come un'opportunità positiva di evolversi. Infine, dichiara che, nonostante tutto, rifarebbe ogni cosa per il bene della figlia.